Derby al Palasport di Via Marti di Ungheria a Montegranaro, scendono in campo la Dino Bigioni-Montegranaro e la Ecolpidiense-Porto-Santelpidio. Palasport molto gremito per un derby molto sentito, tutte e due le tifoserie organizzate stanno facendo sentire nel pre-partita. In campo per la Poderosa con il numero 0 Micevic, il numero 2 ne è arrivato Alessandri, il numero 8 Ciri Beni, il numero 11 Coviello e il numero 34 Ravazzani. Per Porto-Santelpidio con il numero 4 Torresi, il 6 Fabi, il numero 10 Boffini, ex di turno, il numero 16 Romani e il numero 34 De Leo. Qualche istante ancora per iniziare la gara, si sta sistemando la retina del Canesso sotto la curva organizzata di Porto-Santelpidio. Sembra tutto pronto. Palla 2, la vince Romani, Fabi con la palla in mano, chiama il gioco, va da Romani, il cieco, Torresi. Flex per Porto-Santelpidio, l'uscita ai Romani, il passaggio per Fabi, tutto solo, due punti per Matteo Fabi. Alessandri organizza per la Poderosa, va da Micevic, ribalta per Ciri Beni, cieco per il post-basso di Ravazzani, Fabi intercetta, lancia il contropiede per Boffini che si arresta e tira da tre punti, realizza. Boffini, pericoloso mettere il ritmo, Boffini per la Poderosa, giocatore che fa striscia, Saggara per la Poderosa, Ciri Beni, palleggio accompagnato. De Leo fare la rimessa per Fabi, presta Ciri Beni, Fabi consegna per Boffini, Torresi, De Leo, De Leo, l'uscita di Boffini, centrale, mette palla a terra Boffini. Per Romani lo scarico, realizza, 7 a 0, ecco il Pidiense. Alessandri, Piccheroli in transizione, usa la sponda di Ciri Beni, tre punti, nemmeno il ferro, rimbalzo di De Leo, Romani, copre il contropiede della Poderosa, va Fabi. Piccheroli in transizione con Torresi, sponda De Leo, De Leo, tre punti, errore, rimbalzo Ciri Beni, va da Alessandri. Alessandri a testa alta, Piccheroli in transizione con Micevic, Ciri Beni, provano a mettere la palla in post basso, Romani anticipa. Fabi lancia il contropiede, tre contro tre, Boffini in transizione, errore, la tocca Romani, rimessa Dino Bigioni. Ciri Beni, da Alessandri. Alessandri, da Coviello, Coviello prova l'uno contro uno contro De Leo. Lo scarico per Ravazzani, Ravazzani prova l'uno contro uno in post basso, semigancio mano destra, si sblocca la Poderosa, sette a due per le colpidienze. Pollice per le colpidienze, doppio piccherolo l'alto, Romani si butta dentro, Torresi, Torresi va da De Leo. Romani, Boffini, Boffini, cambio difensivo, Boffini contro Micevic, Boffini si butta dentro, la palla persa di Boffini, recuperata la Poderosa, Alessandri spinge il contropiede, tre contro due, Boffini in fondo, subisce il fallo, riesce il gioco a tre punti per Filippo Alessandri. Due tiri per lui, sette a ventisette da giocare, sette a due per le colpidienze. Alessandri Lunetta realizza il primo. Fabi, consegna per Boffini, Torresi, Fabi ancora, pronti un'altra volta per l'uscita di Boffini. Milanega, Alessandri, Fabi in palleggio, picherò il centrale con Torresi, cambio per la Poderosa, lo scarico di Boffini per Fabi, realizza lo scadere dei ventiquattro. L'entrata di Ciribeni, stoppato da Romani. Alessandri rimessa, va da Ciribeni, Micevic mette palla a terra, fallo sul palleggio di Fabi. Due falli di squadra per Porto Sant'Elpidio, due falli per Matteo Fabi. Ravazzani, Alessandri, picherò lo scarico per Copiello che si butta dentro, riesce a segnare con il contatto, rimbalzo di De Leo, piccato adesso da numero tre. Big and roll, Fabi, Romani, cambio per la Poderosa, post-bastro per Romani, lo scarico per De Leo, la finta di tiro, si butta dentro, sotto mano, errore, Ravazzani, rimbalzo, apertura, Alessandri, Percoviello, la schiacciata! Boffini, piccaro laterale, va da Romani, c'è il cambio, Micevic su Boffini, un po' fiscali in questo inizio di gara agli arbitri, non stanno concedendo nulla in difesa ad entrambe le squadre. Passa zona, la Poderosa, Fabi chiude il palleggio, va da Boffini, Fabi, Fabi ancora in palleggio, arresto, tiro, errore, rimbalzo di Coviello, Alessandri, pick and roll con Ravazzani, Alessandri si butta dentro, il pallo di Torresi, la rimessa sarà dal fondo, fallo sul palleggio, Alessandri, Percoviello, penetrazione centrale per Micevic, rimbalzo di Torresi, Boffini lancia il contropiede per De Leo, De Leo lo scarico per Boffini, Torresi ribalta per Romani, Romani palla a terra, di nuovo per Fabi, pick and roll laterale, cambio difensivo ancora per la Poderosa, Fabi si butta dentro, lo scarico per Romani, tre punti, errore, rimbalzo di Ciribeni, il fallo di De Leo. Cambio per Porto Sant'Elpidio, entra Vallasciani per De Leo. Ciribeni, Micevic, cercano il post basso da Ravazzani, la lotta con Torresi, Ravazzani sul fondo, l'arresto, il tiro, l'errore, lotta ancora, rimbalzo in attacco, si tuffano in tre, la rimessa è per la Poderosa. Uscita, Micevic, pick and roll con Alessandri, tiro da tre punti, errore, Fabi. Passato da Ciribeni, Fabi, lo scarico per Vallasciani, infrazione di passi. Ciribeni, per Coviello in post basso, Coviello contro La Finta, contro Vallasciani, lo scarico per Micevic, tre punti, Marco Micevic. Nove poderosa, dieci, Porto Sant'Elpidio. Fabi da Torresi per Vallasciani, Romani, post basso, Torresi, lo scarico per Vallasciani, tre punti, errore, rimbalzo in attacco di Torresi che si gira e tira, errore. Vallasciani si tuffa, recupera da Ciribeni, Passo e tiro, si realizza, time out, Porto Sant'Elpidio. Undici, Porto Sant'Elpidio. Undici, poderosa, dieci, Porto Sant'Elpidio. Undici, Porto Sant'Elpidio. Andici, Porto Sant'Elpidio. Andici, guarda, è troppo facile. Andici, porto Sant'Elpidio. Esce con il numero tre dei pari. Matteo, entra con il numero cinque. Centante in Panic. Cambio per l'Ecolpidiense, esce Fabi, entra a cent'anni Cent'anni Passaggio per Boffini, la finta Boffini buttato dentro dalla difesa, lo scarico per cent'anni Passaggio un po' impreciso, Micevic lancia Alessandri Alessandri, testa alta, non trova Ravazzani in post Riblocca con Micevic, lo scarico, ribaltamento Non la prende Coviello Cambio di Nobigioni, esce Ravazzani, entra Simone Gatti Torresi va da Boffini Boffini in palleggio contro Micevic, si butta dentro, Boffini realizza Uscita di Coviello Ciribeni, richerò laterale con Gatti, aiuto e recupero per Porto Santerpidio Lo scarico per Micevic, Micevic si butta dentro, errore Il fallo di Coviello, spalla Sciani Al numero 11, Coviello, primo fallo Sostituzione, Porto Santerpidio Esce, Romani, Genico, Lele Cent'anni da Torresi, arresto e tiro Il rimbalzo con il tocco di Vallasciani, in attacco per Porto Santerpidio Cent'anni perde palla Alessandri per Ciribeni Ciribeni fa saltare De Leo Realizza Cent'anni le tocca a Ciribeni Boffini chiama testa, pick and roll con Torresi Cambio per la poderosa Boffini prova a buttarsi dentro Ciribeni esce, Alessandri gli leva la palla dalle mani Rallenta Alessandri, arriva in transizione Coviello Mette la palla a terra Palleggia, arresto e tiro, errore Rimbalzo di Cent'anni Cent'anni, lo scarico per Vallasciani Estrapes per Boffini Tre punti Alessandri, orizzontale per Ciribeni Gatti un po' sbasso, di potenza, errore Rimbalzo di Cent'anni Prova a lanciare il contropiede, Cent'anni Perde la palla, poi la recupera, Torresi Battezzato, ribalta la palla Il fallo difensivo di Gatti Su De Leo, sulla linea di fondo Cambio di Novigioni Entra Andreani per Coviello Per Porto Sant'Elpidio E Romani per Torresi De Leo, Romani Boffini In palleggio Ciribeni l'oppressa Boffini tre punti Ferro, rimbalzo di Vallasciani Romani si butta dentro Errore Rimbalzo Porto Sant'Elpidio Deve fare attenzione alla poterosa Sui pick and roll Se passa dietro con Boffini Potrebbe essere un pericolo Cambio Porto Sant'Elpidio Rientra Fabi Esce Vallasciani Cent'anni Fare la rimessa Cinque secondi Per cent'anni Ultimo tiro del periodo Quindi per la poterosa Due secondi Trentadue centesimi Di screpanza Tra il cronometro della gara E il cronometro E ventiquattro secondi Cambio Dino Bigioni Esce Micevic Entra Ravazzani Andreani Va da Gatti Andreani Gatti Tre punti di Gatti Errore Rimbalzo Attacco Alessandri Alessandri Segna Subisce fallo Filippo Alessandri Due punti 12 secondi Da giocare La poterosa Può fare ancora Un fallo 15 pari E lunetta Per il tiro Libro supplementare Filippo Alessandri Lo realizza Cambio Alessandri Entra Ortenzi Esce Salvatore Salvatore Rientra Fabi Cent'anni Prestato da Ortenzi Ortenzi Davanti a Cent'anni Cent'anni Si butta dentro Lo scarico Per Deleo Due punti Errore 16-15 Per Ladino Bigioni Si chiude il primo periodo Si butta qui Sotti Si butta qui Si butta qui Si butta qui Si butta qui Riprende il secondo periodo Rimessa La freccia indica Porto Sant'Empidio Cent'anni Piccherò il centrale Con Boffini Che poi prende il flare Cent'anni Chiude il palleggio Va da Deleo Cent'anni Piccherò il centrale Con Romani C'è il cambio Ravazzani contro Cent'anni Non lo tiene Cent'anni Va dentro Realizza Andreani Alessandri Ravazzani Bosbasso contro Romani Ravazzani Giro e tiro Realizza Ancora Cent'anni Da Romani Flex L'uscita di Cent'anni L'uscita di Fabi Coviello contro di lui Fabi Posbasso contro Romani Romani Lo scarico per Deleo Tre metri di spazio per lui Errore Rimbalzo di Ravazzani Andreani in palleggio Andreani va da Ravazzani Ma che palla gli ha dato Errore di Ravazzani Forse troppo solo Ravazzani Fabi Palleggio Restettino in transizione Realizza Coviello Andreani Due metri per lui Tre punti Andreani Andreani 21 Di Novigioni 19 Quelpidiense Deleo L'uscita di Boffini Grande difesa di Alessandri Su di lui La finta di Fabi Salta Coviello Ma poi recupera Prende posizione Romani Non riceve Il cambio Piccarolle Romani Due palleggi Arresto e tiro Il fallo di Coviello Due tiri per Mirko Romani Realizza Romani Realizza Romani Errore Andreani Da Ravazzani Ravazzani Gatti L'uscita di Andreani Andreani Non arriva il passaggio Per Ravazzani Cambio Portosante Elpidio Esce Buffini Entra Vallasciani Andreani Andreani da Coviello Coviello Subisce fallo Fallo di Romani Due tiri per Coviello 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 e Lunetta Errore Errore 0-2 per Coviello Ma Ravazzani Rimbazzo in attacco Andreani Cospazio Si butta dentro Lo scarico per Coviello Un'altra penetrazione Fuori per Alessandri 5 secondi sui 24 Piccarol centrale Alessandri Si butta dentro Col contatto Errore Scadono i 24 Il fallo E' del numero 34 Ravazzani Nel tentativo Nel tentativo di prendere Rimbazzo Cambio per Radino Bigioni Esce Coviello Entra Ciri Beni Si incarica della rimessa Marco Vallasciani Fabi Romani De Leo De Leo Romani Contro Ravazzani Raddoppio Il taglio di Vallasciani Vallasciani 24 24 per Porto San Telfidio Andreani Andreani Alessandri Cambio Porto Sant'Elpidio Entra Boffini Esce Vallasciani Passa a zona la polerosa Fabi da Boffini Boffini da 8 metri Errore Il rimbalzo della polerosa Gatti Alessandri Bravazzani Post basso di Gatti Gatti Semicancio Errore Cent'anni Lancia il contropiede Va fino in fondo Sul palleggio Fallo di Alessandri Grazie a tutti Zona per la Dino Bigioni tecnico per schiavi che protestava sul presunto fallo e canestro di cent'anni Alessandri realizza il tiro libero del fallo tecnico rimessa lo stagger per Andreani Andreani mette i piedi a canestro, l'uscita di Ciri Beni il grano laterale con Gatti forza il blocco, Boffini cambio Porto Sant'Elpidio esce De Leo, entra Torresi Alessandri piccherò il centrale con Ravazzani Alessandri ancora laterale con Ravazzani cambio per Porto Sant'Elpidio Alessandri rimessa per Porto Sant'Elpidio adesso invece stanno un po' concedendo troppo gli arbitri le partita sta salendo in intensità ci sono più contatti, un po' meno fischi Romani va da cent'anni cent'anni da Romani la palla per Fabi tiro da tre punti, realizza Alessandri da Andreani uscita di Ciri Beni piccherò laterale con Gatti Ciri Beni lo scarico attacco di Ciri Beni contro Romani cent'anni piccherò lì con Torresi il cambio cent'anni vuole andare da Torresi chiude il palleggio cent'anni tre metri di spazio da tre punti realizza Ciri Beni Gatti per Alessandri per Alessandri per Alessandri per Alessandri Ravazzani scusate l'appoggio cent'anni cent'anni piccherò l'atterale con Torresi cent'anni da tre punti Boffini realizza Alessandri Alessandri si butta dentro il fallo sul palleggio di cent'anni laterale rimessa Andreani da Alessandri Alessandri lo scarico per Gatti tre punti realizza cent'anni da Romani Boffini tre punti errore rimbalzo di Ravazzani Andreani in transizione la palla per Ravazzani imprecisa palla persa cambio di Novigioni esce Ravazzani dentro Micevic Romani consegna Boffini Torresi cent'anni Fabi Boffini buttato dentro Boffini gli aiuti lo scarico palla persa c'era anche un'infrazione di passi sull'aiuto non fischiata Alessandri da Micevic Gatti mette palla a terra contro Torresi la finta passo e tiro bellissimo da vedere ma non concretizza cent'anni da Fabi cent'anni torresi lasciato solo non controlla la palla recupera la poderosa Andreani si butta dentro per Ciri Beni Ciri Beni laterale con Gatti lo scarico per Micevic c'è tre punti Marco Micevic più tre Dino Bigioni città di Fabi chiude il pallone e passi i passi di cent'anni che strisce il perno non fischiati Fabi Pichero laterale Fabi contro Gatti prova ad andare dentro lo scarico impreciso per cent'anni tenta la preiera fuori dai 24 time out Porto Sant'Empidio Pichero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alessandri, ci ripeti, penetrazione sul fondo, stoppato, rimessa dal fondo. Andriani, Dagatti, tiene la palla alta, errore. In basso Torresi, spinge cent'anni, va da Fabi, Fabi, Torresi, cent'anni, cent'anni, finta di partire sul centro, attacca con la mano destra, arresto e tiro, errore. La toccano in tre dei gialloneri, ma non controllano rimessa Porto Sant'Elpedio. Per gli arbitri c'è stato cambio di possesso, 24 secondi di nuovo per Porto Sant'Elpedio. Fabi, Romani, cent'anni, boffini, finta, passaggio per Fabi, tre punti, realizza. Alessandri in palleggio, Picarol con Micevic, Alessandri si butta dentro, il fallo di Torresi su Micevic. Micevic, due tiri per Marco Micevic. Cambio, Vallasciani per Fabi, Deleuber Torresi. Micevic realizza il primo. Micevic realizza anche il secondo. Cent'anni. Deleu, cent'anni, pick and roll con Romani, cambio. Cent'anni palleggia. Cent'anni, il crossover contro Micevic. La bomba, Filippo Cent'anni. Time out, poderosa. 17 secondi da giocare. Vai Vacazione. Nient'anni, Man! L'anima, 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 l'anima. Plus, era preparato. Will той bombin' l'anima! Siazig. 것 some'anni, buscar l'anima. Grazie a tutti. 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 Cambio per Porto Sant'Elpidio, vada avanti Boffini a Micevic, la tocca rimessa dal fondo, nove secondi sui 24. Andreani da Ravazzani, si raggioca contro Fabi, semigalcio di destro, realizza. Cent'anni, cent'anni, va Deleu, Boffini, Fabi, Picarol centrale, la palla va Deleu, il recupero viene battuto, Micevic commette il fallo su Deleu. Boffini da Romani, Boffini, Fabi, Boffini contro Alessandri, buttato dentro Boffini, stoppato da Ravazzani. Recupera Alessandri, lo ferma con un fallo cent'anni. Alessandri. Ciri bene, Ciri bene, Ravazzani, prende posizione, Micevic contro Deleu, di potenza, errore, Ravazzani rimbalzo attacco, errore, Deleu su Micevic. Quanti appoggi, sbagliate la Poderosa questa sera? Rimessa dal fondo per la Poderosa. Scita di Ciri bene, Andreani da Micevic, Alessandri, Alessandri, palleggio a resto e tiro. Fabi, torna per Porto Sant'Elpidio, Romani, Fabi, Fabi perde palla, Andreani la recupera, Andreani si arresta, tira da tre punti, errore. Cent'anni, cent'anni, lo scarico per Boffini, Boffini perde il tempo del tiro, Boffini falle in attacco, su Alessandri. Time out, Porto Sant'Elpidio, 40 di Nomigioni, 35, Porto Sant'Elpidio. Ha simulato, ha simulato, ha simulato, ha simulato, ha simulato. L'entrata è Ruffini, si viste l'ultimazione? Sì, 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 sì. L'entrata è Ruffini, si viste l'ultimazione? Alessandri. Ci ripeni, lo scarico per Andreani, tripla, Lorenzo Andreani. Prova a scappare, la di Nomigioni. 43-35 per i padroni di casa, Romani per cent'anni, rivaltamento De Leo. Fabi, l'uscita di Boffini, attaccato, gli sta Alessandri. Poi il cambio con Micevic, che resta aggressivo. Fabi, lo scarico, che palla. Per De Leo, appoggio. Alessandri, pick and roll con Micevic, Alessandri, arresto, lo scarico per Andreani, sulla linea di fondo, penetrazione. Marco Micevic, che palla di Lorenzo Andreani. Cent'anni contro Ravazzani, ripalta per De Leo, arriva Boffini, cambio Micevic, attaccato su di lui. Micevic, butta dentro Micevic, arresto e tiro di Boffini. Andreani lancia il contropiede, ci ripeni. Ci ripeni, ci ripeni, prova a buttarsi dentro. Lo scarico, subisce fallo. Rimessa dal fondo per la Di Leo Bigioni, cambio Porto Sant'Elpidio. Esce Cent'anni, entra Vallasciani, per la Poderosa, entra Coviello, esce Ciri Beni. Ravazzani, Andreani, Andreani, D'Alessandri. Alessandri, Alessandri, tripla, passaggio Nolucco di Lorenzo Andreani. Fallo di Andreani su Boffini, più undici di Novigioni. Fabi, pick and roll con De Leo, Fabi contro Micevic, se la vuole giocare Fabi contro Micevic. Lo scarico per Boffini, più impreciso il passaggio, scivola Boffini, la palla va a Romani. 24, rimbazzo di Andreani, prova a correre, non riesce, la palla va ad Alessandri. Fallo di Ravazzani, fallo in attacco di Ravazzani sul Romani. Fabi, la Boffini, la finta di tiro, si butta dentro Boffini, lo scarico. Vallasciani, De Leo, tripla, errore, rimbazzo di Ravazzani. Andreani spinge il contropiede, la palla per Micevic. Lorenzo Andreani, come sta gestendo la poderosa Lorenzo Andreani. Che passaggio. De Leo, fallo di Micevic, di ritardo sull'anticipo. Esce Micevic, entra Gatti, Porto Sant'Elpidio, esce Boffini, entra Torresi. Quintetto alto per Porto Sant'Elpidio, con Vallasciani da guardia. Sbaglia la rimessa Fabi, Andreani recupera, contropiede Andreani, un altro assist per Coviello. L'errore, rimbazzo di Ravazzani, uno contro tre. Lo scarico per Andreani, la finta di passaggio. Sta contro di Leo, si butta dentro, subisce la stoppata. Andreani aveva detto agli arbitri che l'aveva toccata per ultimo. L'arbitro dice che poi c'era stato un tocco degli azzurri. Coviello! Step back! Più 15, Dino Bigioni, Fabi, Torresi, Romani, Fabi, Fabi ancora l'arresto, lo scarico per Vallasciani. Palleggio, arresto e tiro stoppato, Torresi, rimbalzo in attacco. Palo, Torresi, rimbalzo in attacco, errore, Vallasciani, rimbalzo attacco. Infortunio per Torresi. Palo, Torresi, rimbalzo in attacco, errore, Vallasciani, rimbalzo in attacco, errore, Vallasciani, rimbalzo in attacco. Non ho visto bene, ma vedere Torresi dolorante deve aver preso un bel colpo. Oh, via tu, guadagna! So, come andiamo, bravo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marco Vallasciani, qualche anno nella fila della Sudor-Montegranaro per Vallasciani, classe 94, buon tiro dalla media e dalla lunga distanza. Andreani da Coviello, la finta di tiro, il blocco di Gatti, Ravazzani in post basso, arresto, tiro, errore, rimbalzo di De Leo. Da cent'anni, cent'anni, Vicarola in transizione, il cambio di De Leo, cent'anni contro Ravazzani, cent'anni lo supera come fosse un birillo, il fallo di Coviello su cent'anni. Cent'anni in lunetta. Errore. Errore, rimbalzo di Ravazzani. Andreani da Alessandri, Alessandri sul fondo contro Cent'anni, lo batte lo scarico per Coviello, Coviello arresto e tiro, realizza. Subito un colpo al viso, Filippo Alessandri. Mentre Ciri beni per Alessandri. Subito un colpo all'occhio. Quando c'è stato un colpo all'occhio. Come sta quanto fa il video. Cent'anni. De Leo! De Leo! Cent'anni! Ravazzani, Andreani, Andreani in palleggio, arresto e tiro, realizza! Fallo subito da Cent'anni che va in lunetta, Cent'anni realizza Realizza anche il secondo, 56 di Nobigioni, 42 Porto Sant'Elpidio zona del Porto Sant'Elpidio Andreani, 3 punti, errore, rimbalzo, corre Cent'anni, Cent'anni lo scarico per Vallasciani stoppato, cancellato, cancellato Simone Gatti, cancellato Ciri Beni, fallo subito da Fabi Palloro al numero 3, Gatti, Gatti, Palloro Gatti, 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 Gatti Realizza Ciri Beni Ciri Beni Errore il secondo, la tocca Gatti, Ravazzani, le finte, il giro, il fallo subito da Mirko Romani, due tiri per Ravazzani Il giro, 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 il giro pare che sta a fare la partita Grazie a tutti. Ravazzani in lunetta, realizza il primo, realizza anche il secondo, interviene la security perché i tifosi di Porto Sant'Elpidio muovevano le bandiere in prossimità del sostegno del canestro, che si muoveva. Realizza lo stesso Ravazzani, Fabi tre punti, errore, rimbalzo in attacco di Vallasciani, cent'anni Romani, Romani lo scarico per Vallasciani, Vallasciani penetrazione sul fondo, passo destro e sinistro, errore, rimbalzo di Ravazzani. Coviello, antisportivo di Vallasciani. Esce Andreani, entra Alessandri. Coviello realizza. Coviello il secondo tiro, realizza. Zona ancora per Porto Sant'Elpidio. Zona. Passi per Ravazzani. Parte Fabi, pollice alto, Fabi, da De Leo, De Leo cent'anni, cieco, Boffini, picherò al centrale, cambio per la poterosa, Boffini mandato dentro, Boffini resta e tiro, errore, rimbalzo di Gatti. Filippo Alessandri, parte in contropiede, Filippo Alessandri, resta ad aprire, Vallagatti, Coviello, testa alla linea laterale, palla persa. Fabi, Fabi in palleggio, Fabi cambio per la poterosa, si spaziano gli esterni, all'esterno dei tre punti per far attaccare Fabi. Attacca Fabi, tiro a tre punti, piazzato per Romani, errore, l'apertura di Gatti per Ciri Beni, Ciri Beni va fino in fondo, terzo tempo, errore. La tocca a Porto Sant'Elpidio. Rimessa poderosa, nove secondi e trentacinque da giocare. Time out di Novigioni. La tocca, nove secondi e trentacinque da giocare. La tocca, nove secondi e trentacinque da giocare. Sì, sì. 9 secondi da giocare Gatti gioca contro De Leo l'arresto di potenza realizza 63-42 muore Porto Sant'Elpidio con la palla in mano anche se Romani prova a tirare 63-42 più 21 riprende ultimo periodo al palasport di Miamartiri d'Ungheria poderosa avanti 63-42 sull'Eco Elpidiense Porto Sant'Elpidio cambio cent'anni contro Ravazzani, prova l'uno contro uno cent'anni, arresto e tiro Alessandri, chiamacorna Gatti, Flair Alessandri taglio flash di Coviello stoppato da Vallasciani Fabi Fabi, il fallo di Filippo Alessandri ha subito un colpo Filippo Romani cent'anni piccherò il centrale con Romani lo scarico per Fabi tre punti errore rimbalzo di Coviello Alessandri Coviello Ciribeni pesta la linea cent'anni piccherò il gol Romani cent'anni Romani e il resto il taglio sulla linea di fondo di Fabi realizza 4-0 il parziale in questo primo minuto e 10 secondi del quarto periodo Alessandri da Coviello Coviello da Ciribeni Alessandri Gatti Coviello Gatti Coviello ancora lo scarico per Ciribeni Gatti Ravazzani allo scalire di 24 realizza cent'anni da Boffini Boffini contro Ravazzani Ravazzani Manco il ferro per Boffini nemmeno il ferro Pallo tecnico Boffini Pallo tecnico di Boffini 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 Pallo tecnico a Bolfini che si lamentava sull'ultimo tiro Carravazzani gli aveva messo il piede sotto dopo il tiro Un tiro libero, ci va Alessandri per la di Novigioni Alessandri realizza Alessandri ancora in palleggio, va da gatti, resta pass per Coviello Arresta e tiro di Coviello, tripla Riccardo Coviello Fabi da Romani Cent'anni, Balasciani rivalta per Fabi Cent'anni Romani, Romani tre punti, nemmeno il ferro Time out, Porto Sant'Elpidio, 7.35 da giocare, la poderosa più 23 su Porto Sant'Elpidio Marco, vedete gli aggiuntamenti? Qual è il sito? Ecco, 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 ora ci sto qui E' un po' dove qualcuno ha sbagliato E' un po' dove aveva? E' un po' dove hanno spazio? Riprende il gioco, il parasporto di via Martiri d'Ungheria, Alessandri in palleggio, Riccardo il centrale con Gatti, Micevic, va da Gatti, Gatti, Alessandri, arresto e tiro, errore, rimbazzo di De Leo, cent'anni, andava a Lasciani, tiro frontale a tre punti, lo sbaglia, rimbazzo di Fabi, deviato il passaggio da Alessandri. Va a Lasciani, va da Fabi, Fabi, il cambio, Fabi contro Micevic, Fabi, scadono i 24 secondi. Alessandri da Ciribeni, Ciribeni non riesce, poi ci riesce a dare la palla a Gatti contro Valla Asciani, lo scarico, Coviello, il fallo subito da cent'anni, prendono un colpo tutti e due al ginocchio. Alessandri, guarda il canestro, la finta di tiro, poi si gioca pick and roll centrale con Micevic, lo scarico di Alessandri per Coviello. 72 di Novigioni, 46, è colpidiense, il ritmo si è abbassato notevolmente. Cent'anni in palleggio contro Gatti, che tiene bene l'uno contro uno, rimbalzo di Alessandri. Ciribeni, Ciribeni in transizione, tre punti, punto esclamativo. Leonardo, Ciribeni. Sembra come se Porto Sant'Elpidi avesse tirato i remi in barca. Il ritmo si è abbassato notevolmente. Cent'anni, va da Boffini, Boffini vuole giocarsela contro Gatti, Gatti esagera, si è schiato il fallo a lungo. Cent'anni a fare la rimessa, l'uscita di Valla Asciani. Valla Asciani si butta dentro, arresto, tiro in sospensione, nemmeno il ferro. Coviello in contropiede, arresto di potenza, meno 31 per Porto Sant'Elpidio. E parte il battimani dalla curva. De Leo, da Fabi, di carro laterale, Fabi contro Micevic. Lo scarico, Coviello intercetta il passaggio. Boffini, Alessandri contro Boffini, tiraccio per lui, allo scadere di 24. Ciribeni, Ciribeni. Falli in attacco a Ciribeni. Per Ciribeni, Ciribeni. Ciribeno Bocciallo, ripeto a Porto Sant'Elpidio. Valla Asciani, Fabi, Boffini, picker roll centrale. Boffini contro Gatti, che lo manda a sinistra. Palleggio, step back. Boffini, tre punti, errore. Alessandri. Alessandri. Passaggio dietro la schiena per Micevic. Coviello, la finta di tiro. Step back pure per lui! Coviello! 80 a 46. De Leo. Penetrazione. Canestro. 80 a 48. Coviello, da 9 metri, errore. Rimessa. Porto Sant'Elpidio. Cambio, Porto Sant'Elpidio. Esce Boffini. Entra Salvatori. Esce. Coviello. Alessandri. Entrano Ortenzi e Andreani. Pubblico. Tutti in piedi. Questa sera veramente. Sembra di tornare indietro con gli anni. Palasporti, Via Martiri, Ungheria. Quasi tutto esaurito. Circa mille di spettatori. Fabi. Da De Leo. De Leo. Arresto e tiro. Rimbalzo di Ortenzi. Andreani. Andreani. Il fallo di Fabi. Fallo al numero 3. Fabi. Quanto fallo. Rimessa. Fave rosa. Mamma mia. Andreani. Bergatti. Partono. Con qualche minuto d'anticipo. I titoli di coda sulla partita. 82-48. De Leo da Vallasciani. Cent'anni in uscita dei blocchi. Tre punti. Ferro. Gatti. Da Andreani. 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 Vuole dare la palla a Gatti contro Salvatori. Gatti ne esce dal raddoppio. Ciri Beni si butta dentro. Passaggio dietro la schiena. Per Gatti. Per Gatti. Mamma mia. Oggi spettacolo al Palasport di Monte Granaro. Mamma mia. Che partita. Fabi. Fabi le finte. Fabi. Si butta su in mezzo. Terzo tempo. Mano sinistra. Manco il ferro. Andreani. Pick and roll con Micevic. Si apre Micevic. Da Ortenzi. Penetrazione. Mano destra. Raddoppio. Ortenzi ne esce con Gatti. Tre punti di Gatti. Errore. Rimbalzo di Salvatori. Salvatori. Da cent'anni. Che si butta dentro. Subisce il palo di Andreani. 85 a 48. Entra Simone Di Diomede. Per Gatti. Ciri beni. Entra Marzullo. Un classe 96 in campo per la poderosa. Un 97. Un 98. Due minuti e tre da giocare. Cent'anni. Errore. Rimbalzo. La poderosa. Padamicevic. Andreani. Il blocco di Di Diomede. La palla va a Marzullo. Che non controlla. Infrazione di passi. Per Marzullo. Per Marzullo. Cent'anni. De Leo. Vallasciani. Vallasciani da Fabi. Fabi. L'aiuto di Marzullo. Andreani parte. Contropiede. Andreani per Micevic. Micevic. Da tre con spazio. Errore. Vallasciani rimbalzo. Cent'anni. Prova a spingere il contropiede. Vallasciani ribalta per Fabi. Pichero laterale. De Leo. Tre. Errore. Rimbalzo di Andreani. Palla va a Marzullo. Marzullo da tre punti. Realizza di tabella. Raffaele Marzullo. Novantotto. Tre punti. De Leo. Vallasciani. Traviozzi per Porto Sant'Elpidio. Giovanissime le due squadre in campo. Vallasciani tre punti frontale. Ferro. Parte Andreani. Didi Omede. Non controlla la palla. Viozzi. Cent'anni. Salvatori. Salvatori si butta dentro. Errore. Rimbalzo di attacco. Vallasciani che realizza. Marzullo da Ortenzi. Andreani. Picherole. Andreani si butta dentro. Fallo di Porto Sant'Elpidio. Salvatore. Picherole. All'unno numero 13. Salvatori. Riponfanto. Andreani. Da Ortenzi. Ortenzi. Palleggio arresto e tiro sulla linea di fondo. Errore. Micevic prova a correggere. Errore. Rimbalzo di De Leo. Cent'anni. 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 Chiede la banchina se tirare. Si ferma tutto. Tira lo stesso. Cent'anni. 88 a 50. Adina Bigioni continua la sua striscia vincente. Diventano sei le vittorie consecutive. Davanti a un pubblico veramente numeroso questa sera.